VasoTrap è una nuova biotrappola cromotrofica professionale di colore giallo per la cattura di insetti inucidi e molesti sia in ambito agronomico che negli ambienti civili. Versatile, economico e riutilizzabile per molte stagioni, VasoTrap garantisce un'ottima difesa dalla primavera all'autunno tramite una cattura massiva continua, riducendo in conseguenza l'uso di insetticidi. VasoTrap si propone come una versione evoluta del TapTrap, il famoso tappo-trappola, utilizzato già con successo dalle piccole alle grandi realtà agricole nella difesa delle coltivazioni arboree in generale. VasoTrap ha due importanti caratteristiche, può essere appeso a un supporto aereo o appoggiato su un qualunque supporto piano. Il suo aspetto gradevole ne rende ottimale l'utilizzo in campeggi, agriturismi, locali pubblici, case di campagna, billette, piscine o parchi. VasoTrap è realizzato in un materiale plastico molto resistente, permette il riciclo dei parattoli in vetro della capacità di un chilogrammo comunemente utilizzati per invasare il miele, trasformandoli in vere e proprie biotrappole alimentari. L'esca potrà essere preparata utilizzando comuni sostanze alimentari che varieranno in base al tipo di insetto da catturare. L'ideatore e produttore Roberto Carello, da sempre attento all'ambiente, propone una serie di ricette naturali fai-da-te e salvaguardano comunque gli insetti impollinatori. Consultate la sezione dedicata alla preparazione delle